we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora vediamo un pochettino se fare qualcosa con con i ragazzi secondo me siamo già rovinati in partenza ma ok dove andiamo scogliere andiamo a scogliere let's go allora c'è almeno un altro ce n'è uno che si sta trovando sì ma c'è uno che ha droppato tipo alle pietre quindi son bot sicuramente il matchmaking no no è suo il matchmaking infanti io non volevo dire però ma poi vogliamo parlare della skin sì 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 lo so la mia schiena sono io ragazzi sono io e in giro è uno che mi spara come si chiama c'è uno qua fuori morto vado a tirarlo su sono botte quanti per questi sono da fare che non ho capito mi sembra 250 e allora mi sa che non ho ancora finita quella da 250 ci siete possiamo anche partire non trovo neanche lo c'è perché se le sta fulminando tutti infanti hai veramente messo questo che c'è il piccone chi è che ha questo piccone del c***o no io me ne vado non lo voglio sentire no no me ne vado me ne vado me ne vado hanno messo il piccone no 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 non voglio neanche commentare perché deve sempre essere tutto alla base dell'ignoranza perché puntiamo direttamente al covo sento spari qua davanti qua davanti così sotto prima sono fatti mi sa andati ok perfetto ma chi è che ha preso danno veramente ma andiamo 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 ancora gente c'è ancora gente sono qua fuori io ne ho tre io ne ho tre porco ne avevo tre che dovevo fare andiamo dai che si chiude dai che si chiude ragazzi si fa si fa complimenti per la mira fatti ok a sinistra fatti ma c'era il muro è uno dietro di te fatti e sta curando è arrivato un altro team fatti posso in te o me ne andrei vediamo se ce la facciamo ma cosa sta succedendo non capisco ma vai ce la può fare raga ce la può fare vediamo se ce la fa fare il resto ragazzi con calma con calma foresta ma è per forza no vabbè io adesso chiudo no vabbè ma non ci posso credere ma che se mori da questi fatti vattene 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 oddio si fatti però shieldati però shieldati no ma tranquillo sotto i muri non ci servono tanto figurati non gliene frega vediamo ancora aperto signori attenzione si può fare si può fare hai 30 secondi se riesci ad andare veramente al a foresta non sarebbe male secondo me comunque erano buttati pure questi non ti dico neanche di fare la mega la mega shockwave perché se no lascia perdere è capace è capace a farle sto migliorando si 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 spara dall'altra parte però ce la può fare ragazzi dai dai che siamo in 2000 oh Fanti complimenti bravo Fanti bravo lascia stare la gente è un buono magari se mi lasci due shieldini sarebbe figo e un'arma anche l'arma vuole eh no eh vada 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 mi lasci quello che vuole non siamo ancora morti ma bisogna andare di brutto vai 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 ce la si può fare ragazzi Fanti se mi fermo siamo morti sul serio ed è anche probabile che siamo morti così come diceva lei ci serve assolutamente un veicolo c'è gente lì davanti che sta andando venga qua venga qua no Fanti non mi posso venga qua la proviamo la proviamo vai 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 se ce l'hai qua si fermati fermati Fanti butta solamente la shock senza fare minchiate butta sto shock Fanti ciao Fanti io vado è finito così lasciane giù una lasciane giù una senza tirarla Fanti siamo veramente morti io non ho parole Fanti non ho veramente no Fanti non ho venga eh si no sto arrivando Fanti ma ci muori parca di azz che c***o fai non ti muovere stanno se la potrei fare non ci arrivo fermo fermo se non entrare vai a arrestarmi a Brughiere vai 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 qui non ti frega un c***o dellhp perchè tanto sei full lect vai a arrestare o brughiere cos'è che fà lascare porpo dia cosa fa non andar di dritto perchè ci sono i allora qua davanti fanti c'è un falò alla prima casa lascia lascia vai dritto dritto ti lascia perdere a sinistra davanti a questa casa c'è un falò o c'è un medic vai sparati il medikit hanno chillato un tizio in acqua poi ancora arriva home preso il medikit perché ricarica anche io non lasciamo andare a restare per carità di dio fermi 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 potrebbe farcela sul serio sì fanti che ce la fai fai quattro muri si fai quattro non resta poi lo potete che non evitare niente fa niente mentre c'è la faccia la fa adesso fanti devi correre a prendere quel medikit e tu di andare full subito lascia colpi i cildini si fa antifical double res arrivando sto arrivando gli fa fare anche la sfida troppo entro e non so quello che hai magari scendini poi fai a prenderti medikit si fa ragazzi si fa si fa facciamo fatti se troviamo un pump calmo fanti non ti far sparare secondo me ci muoio pure io non ho anche un pump arrivo calmo 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 ho trovato un po dentro al tetto della casetta fa fatti torni indietro calmo 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 scendini ho sentito ma non li ho più visti morto uno ma che è questo rumore infatti siamo due di uno fatti ma hai messo un backpack del ah il paio il martellone figa e qua davanti 32 32 morti let's go let's go complimenti al fanti è arrestato due volte figa easy nice potta